Succede spesso, anche a noi che ci professiamo cristiani, di formarci una opinione di qualcuno solo dagli apparenze. Vediamo quello che fa o che dice e crediamo già di conoscerlo. Così iniziamo a lasciarci coinvolgere in pettegolezzi e mormorazioni. Eppure l'unico che conosce la verità intera su qualcuno è solo Dio e per questo solo Lui può giudicare l'operato degli uomini. Noi no e non dovremmo farlo mai. Non siamo noi la misura secondo cui si misura il bene e il male. Chiudiamo gli occhi alle debolezze e apriamoli invece alla bellezza dell'amicizia sincera, del servizio disinteressato e dell'accoglienza reciproca. Tutti sbagliamo e anche noi. Gli altri perdoneranno le nostre mancanze, così come anche noi perdoneremo le loro debolezze. Giudichi gli altri solo dagli apparenze. È facile o difficile per te cambiare opinione sugli altri dopo aver emesso un giudizio. Ti lasci guidare dai pregiudizi nelle relazioni di ogni giorno.